In vigore da oggi il nuovo decreto del governo che fissa l'obbligo di indossare anche all'aperto le mascherine, poche le eccezioni, intanto nelle ultime 24 ore 17 nuovi casi di covid in provincia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Don Roberto Malgesini, luminoso esempio di fratellanza, dice il capo dello Stato. Dopo l'incontro con la comunità di Santa Caterina Valfurva, l'assessore Sertori annuncia un'istanza al governo per chiedere misure di defiscalizzazione a favore degli operatori penalizzati dalla frana del Ruinon. L'Automobile Club di Sondrio presenta la prima edizione di Valtellina Eco Green, pausa di riflessione per il Coppa Valtellina, focus su un evento dedicato alla mobilità sostenibile, nel ricordo di Trinca Colonna. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. Da oggi sono in vigore le nuove norme per l'utilizzo delle mascherine. All'aperto, salvo alcune eccezioni previste dal decreto del governo, si devono indossare. Le multe per i trasgressori possono arrivare fino a 3.000 euro. Esclusa la propria abitazione, l'obbligo vige anche nei luoghi chiusi. Mascherine da avere sempre con sé quando si è all'aperto. È quanto prevede il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore oggi, 8 ottobre 2020. Ma quando si è all'aperto bisogna sempre indossarla? Questa è la domanda che stamattina si sono posti in molti. La risposta non è immediata perché sono previsti diversi casi. In sintesi, la mascherina deve essere indossata sia nei luoghi a chiuso diversi dalle abitazioni private, sia quando si esce di casa. A meno che non ci si trovi in un luogo isolato, che di fatto garantisce il distanziamento individuale. Anche sui mezzi di trasporto va indossata quando si entra nei negozi, al ristorante quando ci si è allontano dal tavolo, così come negli spazi aperti quando si è in prossimità di persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo, si legge nel testo del nuovo provvedimento emanato per ridurre i rischi di contagio da COVID-19, le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini d'età inferiore ai 6 anni, chi ha patologia o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi deve interagire con loro. Per attività sportiva si intende anche l'utilizzo della bici. In quel caso l'obbligo decade. In auto non è obbligatoria se si viaggia con i congiunti. Chi non rispetta nuove disposizioni rischia una multa da 400 a 3.000 euro. Il decreto sarà valido fino al 15 ottobre. Questa è la data contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri per contenere l'aumento dei contagi che purtroppo si registra anche in provincia di Sondrio. 11 nuove positività avvenute alla luce in Valtina e Valchiavenna nella giornata di ieri, dato contenuto nel report diffuso in serata da Tiesta della Montagna. Cinque casi sono stati riscontrati in anziani ospiti delle case di riposo. Da inizio pandemia in provincia di Sondrio le persone risultate positive al Covid-19 sono state 1.315. La stragrande maggioranza dei contagi risale alla scorsa primavera. Ora ci attende un autunno nel quale la guardia deve restare alta. L'ipotesi di coprifuoco con la chiusura anticipata dei pubblici esercizi al momento tramontata, ma il contenimento del virus sarà possibile solo con il contributo di tutti. Il comportamento individuale può far veramente la differenza. Intanto il Covid fa registrare nella nostra provincia un'impennata di casi. 17 infatti le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore da ATS della Montagna. Tre nelle case di riposo. E proprio a questo delicato tema è dedicata la puntata di questa sera di Il Telescopio, in onda alle 19.45 e in replica domani alle 21.20 con l'intervista esclusiva alla direttrice generale di ATS della Montagna, Lorella Cecconami. Il Presidente della Repubblica ha deciso di conferire la medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Don Roberto Malgesini, sacerdote degli ultimi, ucciso il 15 settembre scorso a Como, luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza, scrive nelle motivazioni il capo dello Stato. Nel cuore degli abitanti di Cosio Valtellino, in cuore dei fedeli, degli amici sacerdoti, dei tanti bisognosi che ha seguito con dedizione fuori dal comune, Don Roberto Malgesini occupa uno spazio speciale. Schivo, sempre rontano ai riflettori, evitava volentieri le foto, ma i tanti piccoli gesti quotidiani, quelle colazioni servite ai più poveri, agli ammarginati, i sorrisi dispensati a chi era solo, lo rendevano e lo rendono indimenticabile. La sua vita esemplare, dedicata agli invisibili, interrotta a soli 51 anni, da un senza tetto che aveva più volte aiutato, ha aperto gli occhi a molti. Un martire della carità, va detto Papa Francesco in un'udienza generale del mercoledì, 24 ore dopo la tragedia accaduta a Como, in piazza San Rocco. Un martire della misericordia, il messaggio diffuso dal vescovo Oscar Cantoni, nel corso dei funerali di Don Roberto, celebrati a Regoledo. E ora dal Quirinale, giunge la notizia che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile, la memoria, a Don Roberto Malgesini. Con generosa e instanchabile abbenegazione, si legge nella motivazione, si è sempre prodigato quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienze e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani bisognosi, prosegue il Quirinale, veniva brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza, sottolinea il Capo dello Stato, e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all'estremo sacrificio. La vita terrena di Don Roberto si è interrotta bruscamente la mattina del 15 settembre, colpito a tradimento da un senzatetto che spesso aveva aiutato, ma come ha spiegato il Vescovo Cantoni durante le esequie, noi tutti abbiamo il compito di proseguire con l'alfabilità e tenerezze di Don Roberto quello che lui ha fatto per i bisognosi, i poveri. Dare priorità alle opere che hanno già un percorso certo, compatibile con le norme urbanistiche vigenti sul territorio, il presidente della provincia Moretti commenta con favore il piano di infrastrutture previste per le Olimpiadi e avverte il 2026 è dietro l'angolo. La certezza dei fondi è la cosa più importante, sottolinea il presidente della provincia di Sondrio Moretti, nel salutare con favore l'impegno di regione e governo per realizzare le opere infrastrutturali necessarie in vista delle Olimpiadi, a cui la Valtellina vuole arrivare pronta. Il decreto ministeriale, che sarà emanato d'intesa con le regioni, prevede il finanziamento delle opere essenziali, ma anche di quelle connesse all'evento, come la soppressione dei passaggi a livello o la tangenziale di Sondrio. La regione, nel piano Lombardia, ha reso già disponibili 55 milioni per opere prioritarie del territorio, tenendo conto delle verifiche già condotte sulla fattibilità degli interventi su cui sviluppare i cronoprogrammi. Alla provincia il territorio ha valutato molto bene quello che è stato presentato questa mattina, anche perché è il frutto di tanti desiderate che arrivano proprio da parte del territorio. È chiaro che bisogna dare delle priorità, anche perché il 2026, per quanto sembri lontano, adesso veramente è sempre più dietro l'angolo, anche perché poi continuiamo a dire il 2026, ma sarà il 2025 che bisogna ultimare queste opere, e quindi bisognerà dare delle priorità, soprattutto a quelle opere che hanno già oggi quelle caratteristiche per poter seguire un percorso veloce, quindi una congruità urbanistica con gli strumenti urbanistici e quant'altro. Il focus sull'Alta Valle, ma non solo. Allora è chiaro che al momento tutti questi progetti che sono stati evidenziati e presentati questa mattina riguardano la location dove ci saranno le Olimpiadi, quindi l'Alta Valle, ma come ho già detto durante le riunioni e ribadisco con forza, le Olimpiadi dovranno avere una ricaduta su tutta la provincia, e quindi ora concentriamoci su questo territorio, ma non dimentichiamo e non dimenticherò sicuramente tutto il resto. E su questo sto e stiamo già lavorando. La strada per Santa Caterina è stata riaperta, lo scenario di rischio della frana del ruinone è rientrato, ma è chiaro che la località turistica della Val Furva ad ogni perturbazione violenta fa i conti con l'ipotesi isolamento, occorre agire su più fronti, dice l'assessore Sertori che ha presentato un'istanza al governo per chiedere a favore degli operatori economici una moratoria fiscale. La strada provinciale 29 per Santa Caterina Val Furva è percorribile di giorno dalle 6.30 alle 19.30. Lì c'è una comunità che sta soffrendo, riconosce l'assessore regionale Sertori, che ha incontrato i cittadini. Purtroppo quando i radar sul fronte della frana del ruinone registrano scenario di rischio di scatta la chiusura. Parliamo di uno dei dissesti idrogeologici più grandi d'Europa che negli ultimi anni ha registrato forti accelerazioni. Gli interventi sono stati tanti, afferma l'esponente della giunta Fontana, innalzamento degli argini, creazione di un vallo per contenere il rilascio di materiale, come è accaduto in questi giorni, prelievo di acqua, brillamento massi. Tutto serve a contenere il problema, ma niente è ancora sufficiente a risolverlo per sempre. L'intervento definitivo, cioè quello risolutivo, che comporterà rischio zero sostanzialmente, sarà quello del bypass idraulico e del bypass stradale. Interventi massici, sono interventi che costano qualcosa come 130 milioni di euro. Abbiamo avuto più interlocuzioni con il Ministero e abbiamo avuto garanzie del finanziamento da questo punto di vista, ma certo sono interventi che rispetto alle procedure necessitano 4-5 anni. Ma la gente, riconosce Sertori, non può aspettare 5 anni e chiede risposte ora al rischio isolamento. A inizio anno il Ministero delle Infrastrutture ha confermato, a seguito delle richieste della Regione, il finanziamento. Intanto si deve continuare a lavorare con opere al momento possibili, che pur in uno scenario incerto hanno permesso la riapertura della strada provinciale, destinata a fine anno a tornare alla competenza di ANAS. Capiamo il disagio, capiamo le problematiche. Io stesso ieri ho detto anche per quanto riguarda le attività produttive, gli alberghi, perché poi Santa Caterina vive prevalentemente di turismo, che manderò anche un'istanza al Governo, perché probabilmente una qualche forma di compensazione rispetto a questa situazione che oggettivamente è particolare ed è molto difficile per gli abitanti di Santa Caterina, il Governo la potrebbe trovare, magari con una qualche tipo di defiscalizzazione. Ma anche su questo ci ragioniamo e io mi sono impegnato a mandare una richiesta al Governo anche da questo punto di vista. La pazienza e il diritto di cronaca hanno un limite. Comincia così il messaggio postato oggi sulla sua pagina Facebook da Massimo Sertori, che avverte da oggi in poi verrà presentata querela contro l'autore di post-messaggi che, travalicando il perimetro di accettabilità del diritto di critica, rappresentino offese dirette o indirette, anche con metafore o accostamenti illeciti. Il tutto, aggiunge l'assessore regionale, con richiesta d'anni, proporzionata alla portata divulgativa dei post o messaggi. Non vi è alcun riferimento specifico alla ragione di questa diffida, ma si coglie con evidenza nella presa di posizione dell'esponente regionale la reazione ad una iniziativa mediatica lanciata poco prima sui social proprio all'indirizzo dell'assessore dal comitato Giulemani Dalmorelli, che si definisce Siamo la gente di montagna, e parla della prima iniziativa di resistenza civile online, destinatario Sertori, individuato come il responsabile della situazione di incertezza che vive l'ospedale di Sondalo e oggetto di frequenti attacchi e offese. Molte le manifestazioni di solidarietà a Sertori, così come anche l'obiezione di chi rivendica il diritto alla critica. Ora il bilancio dell'attività articolata, condotta di recente su più fronti dai carabinieri della Compagnia di Tirano, dal ritrovamento di piante di cannabis lasciate a dessiccare in un fienile all'arresto di un presunto ladro latitante a sua insaputa. Non sono mancati gli ubriachi, tra cui padre e figlio. 60 kg di piante di cannabis sativa, complete di infiorescenze in fase di essiccazione, sono stati trovati in un fienile di Sernio dai carabinieri forestali di Tirano, che hanno agito coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo radiomobile della locale Compagnia. Il proprietario del fienile, un 34enne del posto, è stato denunciato alla procura di Sondrio per detenzione illegale di sostanza stupefacente. Analisi di laboratorio accerteranno il livello effettivo del THC, il principio attivo presente nella cannabis. Di recente nella zona è stato denunciato il furto di piante da parte di un coltivatore legale, indagini in corso accerteranno l'eventuale nesso fra i due fatti. Nei suoi confronti il tribunale di Oristano aveva emesso l'ordine di custodia cautelare in carcere per diversi furti perpetrati nei mesi scorsi ai danni di esercizi commerciali in quella zona della Sardegna, dove aveva soggiornato per qualche tempo. Ma lui non lo sapeva, almeno così ha detto ai carabinieri della stazione di Tirano, un 43enne residente nella città dell'Adda fermato durante un controllo stradale. Secondo quanto riferito, l'uomo credeva di essere sottoposto solo all'obbligo di firma. Ma negli ultimi dieci giorni di settembre, prima di lasciare l'isola e rientrare in Valtellina, era stato arrestato due volte, sempre per furto in negozi tra Oristano e Cagliari. Così gli uomini dell'arma hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal giudice Sardo e tratto in arresto l'uomo condotto nella casa circondariale di Sondrio. Sempre alta l'attenzione dei carabinieri della compagnia di Tirano agli ordini del capitano Luca Rossi verso l'abuso di sostanze alcoliche da parte di coloro che sono alla guida, costituendo così un pericolo per sé e gli altri, ma anche da parte di chi alza il gomito, diventando molesto per la comunità. I militari del nucleo radiomobile a Bianzone hanno sorpreso un'automobilista di 57 anni alla guida della propria utilitaria con un tasso di alcol nel sangue, risultato al test dell'etilometro superiore al limite di legge, di cui il ritiro della patente che gli sarà restituita al termine del periodo di sospensione fissato dal prefetto. I militari della stazione di Tirano invece hanno sanzionato padre e figlio di 30 e 63 anni, colti in evidente stato di ebbrezza all'esterno di un bar di Villa di Tirano. L'utua Castione Andevenno si è spento all'età di 66 anni dopo breve malattia. Dario Morella, noto imprenditore del paese, originario della frazione Gatti, Morella era conosciuto anche per essere stato vice sindaco nella giunta Ghibesi, Carica Ricoperta, insieme a quella di Assessore all'Agricoltura, anche nell'amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Franchetti dal 2014 al 2019. Attualmente Morella era consigliere comunale con delega ad Agricoltura e Ambiente. Un amico caro, una persona buona e amante della vita, ricorda il sindaco in un post pubblicato su Facebook. Il dopo Covid stimola l'impegno a progettare su nuovi modelli il futuro, anche nella mobilità. Per questo Automobile Club Sondrio propone un evento che coniuga sport, sicurezza e sostenibilità. Parliamo di Valtellina Eco Green, presentato oggi nel Palazzo della Provincia, Unica TV Media Partner. 24-25 ottobre, primo Valtellina Eco Green. Quest'anno il Rally Coppa Valtellina fa posto ad una manifestazione che coniuga sport, ambiente e sostenibilità con una prova di regolarità articolata in due manche, due percorsi sul territorio, ma anche altri eventi per riflettere sulla nuova mobilità. A volere questo evento, l'Automobile Club Sondrio. È un evento di livello nazionale perché è la finale del campionato italiano, Green Endurance, è dedicato solo a auto ecologiche, full electric o ibride e dimostra che il futuro è già presente ed è già alla portata di tutti gli utenti dell'automobile. Sondrio è la seconda provincia in Italia per utilizzo di fonti rinnovabili. La sua vocazione green si riflette anche nel crescente acquisto di auto elettriche o ibride. Sono assolutamente convinto che una provincia come la nostra, che ha forte vocazione turistica, deve dimostrare di avere un atteggiamento anche innovativo rispetto alla protezione dell'ambiente. Il fatto di avere la finale del campionato italiano delle auto green in provincia è un buon segnale soprattutto per il futuro e per far vedere e dimostrare all'utente di tutti i giorni delle automobili che il futuro è certamente già adesso perché le automobili che partecipano a questa manifestazione sono automobili che sono oggi sul mercato e liberamente acquistabili. Doverosa la gratitudine verso chi aveva ideato questo evento al quale è andato il ricordo di tutti. È un'eredità che mi ha lasciato Giovanni Trinca-Colonel che è recentemente scomparso, me l'ha lasciata con una visione, lui sì, del futuro perché lui che ha fatto per 30 anni il presidente dell'ACI ci ha regalato questo evento e per noi significa ripartire con una logica nuova e per dimostrare che anche il motorsport non è la solita manifestazione chiudono le strade, rompono le scatole, fanno rumore eccetera eccetera ma è uno dei tasselli che possono aiutare sia l'economia vantellinese sia il turismo in modo particolare. In chiusura alcuni appuntamenti in onda stasera su Unica Sondrio alle 20.30 e alle 22.45 nuovo spazio dedicato al progetto montagna 4.0 Future Alps iniziativa lanciata dalla SEV, la società economica vantellinese attraverso una serie di incontri sul territorio. Il primo si è svolto a Bormio, faremo il punto e parleremo anche del prossimo in programma domani a Morbegno. Sempre stasera alle 21.50 invece speciale dedicato a Santiago in Rosa il decennale della pedalata solidale promossa da Cancro Primo Aiuto che ha festeggiato nei giorni scorsi anche i 25 anni di attività ce ne occuperemo in un altro speciale in onda domani sera alle 21.40. È tutto per questa edizione, come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Unica Sondrio sul canale 193 del Digitale Terrestre ma ovunque voi siate, nell'orario a voi più comodo ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube, Facebook e Instagram e sul nostro portale www.teleunica.com Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per averci seguito.